Siamo qui con Marcello Carisi, ingegnere chimico che quindi ci spiegherà i pro e i contro della centrale a carbone. Però prima vorremmo che dicesse ai nostri telespettatori qual è stato il suo percorso lavorativo e quindi il perché è talmente qualificato da poterci spiegare in maniera tecnica queste motivazioni. Modestamente, comunque io ho iniziato a lavorare nel 1976, ho lavorato in varie società di ingegnerie, tra cui la Saipem e mi sono occupato di impianti industriali, soprattutto raffinerie, impianti gas, estrazione petrolio e anche nel settore energia, tra cui sia centrali a gas, sia a olio che a carbone. Ho anche lavorato sulla centrale del Sulcis dell'Enel e quella di Civita Vecchia Ultima ma che dal punto di vista tecnologico dovrebbe essere molto simile a quella che ipoteticamente verrebbe realizzata a Gioia Tauro. Nella discussione che ho ascoltato sono stati citati i dati ambientali e le conseguenze sulla popolazione delle centrali di Vado Ligure. Però quelle centrali sono state costruite 40 anni fa quando il concetto di protezione ambientale era legato alla dispersione. Si facevano cammini alti 250 metri nel presupposto che con l'altezza si riuscisse a disperdere e mandare lontano dal luogo, dal sito dell'impianto l'inquinamento. Oggi la politica è cambiata completamente perché sia lo stoccaggio del carbone, che era una delle maggiori fonti di inquinamento per le polveri, oggi è tenuto completamente chiuso al coperto e in depressione. La movimentazione del carbone è fatta con nastri trasportatori chiusi tenuti in depressione, quindi le polveri non possono uscire. La caldaia è fatta con i bruciatori idonei a abbattere gli NOx e comunque a valle sui fumi ci sta un denox, cioè sarebbe un sistema catalitico per abbattere gli ossidi di azoto, successivamente c'è un trattamento a umido, semi umido per abbattere la SO2 e infine invece del precipitatore elettrostatico che si usava fino a 15-20 anni fa c'è il filtro a maniche che abbatte le polveri fino a meno di 5 parti per milioni, qualunque tipo di impianto rientra in questi limiti. Quindi io poi faccio una considerazione più generale, in Italia non c'è una vera politica energetica, cioè il nucleare non l'abbiamo fatto e ormai abbiamo perso il treno, i ricassificatori non li vogliamo fare, dipendiamo completamente da Putin e dai libici da questo punto di vista, quindi noi dovremmo avere in Basilicata, nella Val d'Agri, io ci ho lavorato molti anni, ci sta uno dei più grandi giacimenti di petrolio d'Europa e non si riesce a raddoppiare l'impianto, a mare non si può più perforare a largo perché abbiamo messo dei limiti unici al mondo dopo l'incidente che è successo al Messico, quindi in pratica noi ci troviamo ad avere poca differenzazione delle fonti di energia e le paghiamo molto di più, di più abbiamo sviluppato molto il fotovoltaico che da una parte è positivo però ha implicato un maggior costo dell'energia perché la dobbiamo pagare noi e l'industria del 34%, quindi l'industria chimica per esempio che è energivora è penalizzata rispetto alla concorrenza europea, quindi oltre al costo del lavoro più alto noi abbiamo anche le infrastrutture in senso sia fisico, ferrovie, strade sia anche energetiche perché noi paghiamo il gas e l'energia di più. Ora venendo alla centrale da un punto di vista tecnico io ritengo che facendola usando quello che vengono chiamate le B&T, le best available technologies come richiede l'Europa, c'è quello che è il meglio dello Stato dall'arte attuale, si possa fare una centrale che rispetta l'ambiente. Ovviamente un minimo di emissione c'è ma in qualunque tipo di impianto industriale, d'altra parte se non vogliamo tornare a stare con le candele c'è un minimo di prezzo, del resto nelle città io vivo a Roma, non è che l'emissione delle automobili sono inferiori secondo me, è peggio lì che la centrale a carbone qua secondo me. Io farei un'altra considerazione legandomi alle energie rinnovabili, il fatto che in Italia abbiamo sviluppato enormemente le energie rinnovabili da un punto di vista è positivo perché in certi momenti il picco energetico italiano è soltanto fotovoltaico, però questo ha destabilizzato il sistema nazionale perché le centrali devono dare la precedenza al fotovoltaico, quindi c'è il sole come oggi a Bova c'è il sole fotovoltaico, mezz'ora dopo c'è la nuvola, non c'è più produzione energie elettriche, le centrali devono riprendere carico questo modo di funzionare è altamente antieconomico e inefficiente. Le centrali a carbone in particolare sono fatte per il carico di base, cioè dovrebbero andare a tavoletta, a carico massimo per essere competitive e in questa situazione italiana di riduzione dei consumi e di eccesso di produzione di fotovoltaico ritengo che dal punto di vista economico di un project financing il payout, cioè il tempo di ripagamento sarebbe troppo lungo e forse non ci sarebbe insomma nella situazione, nel contesto energetico ormai che è completamente differente soprattutto per le rinnovabili. Quindi tecnicamente io da ingegnere che ho fatto questi impianti inceneritori in Italia e nel mondo dico che si può fare e non è un problema ambientale, però da un punto di vista economico ritengo che non stia in piedi più questo progetto. Quindi il contro secondo lei per quanto riguarda la costruzione della centrale a carbone è prettamente di tipo economico? Poi io sono da tecnico, le abbiamo fatte queste centrali nel mondo, cioè quella della tecnologia dell'Enel di Civitavecchia è utilizzata anche in California, quindi insomma che è uno degli stati più rigidi per gli standards ambientali, quindi se l'hanno utilizzata lì che sono uno degli stati più restrittivi sulle emissioni, non vedo perché non si possa farla in Italia, a Civitavecchia ci sono tre gruppi tipo questi e io ci sono stato tante volte e non mi sembra una situazione così drammatica, è un normale, un impianto petrolchimico è peggio se vogliamo, diciamo perché ha emissioni di idrocarburi, ha un pochino di diossina potrebbe avere, quindi la centrale da un certo punto di vista le polveri era il problema maggiore perché con il filtro a manica è stato ridotto del 90-95% rispetto alla tecnologia precedente del precipitatore elettrostatica. Al giorno d'oggi quale sarebbe la centrale che si potrebbe costruire se non a carbone, quindi il modo di fare energia più conveniente per l'Italia e per la nostra area? In teoria il ciclo combinato a gas sono più convenienti perché costano la metà e hanno rendimenti più alti, però qui il gas non c'è, quindi il carbone invece verrebbe via mare e siccome viene via mare il carbone, diciamo c'è il problema dello zolfo, si può importarlo dei paesi dove hanno il tenore di zolfo più basso, quindi minor problemi di trattamento dello zolfo, dell'SO2, però il gas a Roma, comunque a Roma per dire, Aprilia che è un paesino vicino a Roma, la centrale a turbocassa non l'hanno voluta, quindi in Italia c'è il concetto del NIMBI, non fuori dal mio giardino, cioè non vogliamo niente da nessuna parte, è un pochino, e secondo me oggi che era una riunione del Partito Democratico, che siccome ha il 40% dei consensi deve assumersi anche la responsabilità di indirizzare da un punto di vista politica assumersi le responsabilità di certe decisioni. Noi possiamo dire di no alla centrale a carbone, ma non possiamo dire no a tutto, perché se no penalizziamo le nostre industrie, i cittadini e già la situazione è quella che è, non riusciamo a uscire dalla crisi anche per questo, perché dal punto di vista infrastrutturale e energetico stiamo in una situazione diciamo disastrosa, non abbiamo i ricassificatori, oggi con un ricassificatore, col mercato spot, io in Qatar trovo il gas se lo pago la metà invece di quello che me lo fa pagare Putin, però siccome viene liquefatto deve essere ricassificato in Italia, in Italia ce ne stanno due piccolissimi, uno alla Spezia e uno a Rovigo, quindi in caso di crisi se Putin quest'inverno ci taglia l'energia o ce la fa pagare tre volte. Il governo italiano deve dire sì ad una nuova, anzi deve attuare una nuova politica energetica che in questo momento è inesistente, perché adesso gli Stati Uniti con lo shale gas, la tecnologia della frantumazione geologica riescono a produrre moltissimo gas, se lo possono anche esportare a basso prezzo, però noi non possiamo riceverlo perché noi lo possiamo ricevere solo dai gasdotti, dall'Algeria, dalla Libia o dalla Russia. La Libia sappiamo com'è la situazione, l'Algeria ci sono pure lì qualche problemino e Putin, vediamo se ce lo manda quest'inverno. Diciamo che però la soluzione potrebbe essere l'ecosostenibilità, chiedo scusa, di questa produzione energetica. Sì, io personalmente, ripeto, da tecnico dico che si può fare, però qui io non la farei più perché c'è una sovraboluzione di energia elettrica e quindi non ha senso farla, anche perché per chi fa l'investimento secondo me non se lo ripaga. Grazie 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 a tutti